E' successo un po' di tutto nell'ultima giornata, c'è un attacco al mondo delle cripto e da qualche mese che un po' tutti quanti i cripto investitori che è addentrato in questo settore si è reso goto che qualcosa non funziona. Non arrivano bordate di notizie negative per il settore delle criptovalute, tutte in momenti molto particolari, tutte vicino alcune fasi molto importanti anche dal punto di vista di prezzo di Bitcoin e anche nella giornata di ieri una bordata, una balanga di notizie negative che hanno impattato pesantemente su Bitcoin e l'hanno spinto sotto i 21.000 dollari. Allora un po' ce lo aspettavamo perché dal video di lunedì dove vi ho parlato del fatto che se Bitcoin non avesse superato in pratica il livello di 22.700-22.800 il rischio di fare crash sotto i 21.000 dollari era molto molto alto entro la fine della settimana. Detto fatto ragazzi arrivavano con l'aggiunta appunto anche di queste poi notizie negative Bitcoin si è spinto addirittura sotto i 20.000 dollari livello che insomma è psicologico più che tecnico ragazzi che qui insomma in questo caso adesso sta lottando con il livello psicologico. Il livello tecnico invece era esattamente 21.000 è qualcosa circa che era il minimo di febbraio. Che cosa è cambiato? Che cosa sta succedendo? Come cambia l'analisi ciclica, l'analisi tecnica del mercato? Lo vediamo nel video di lunedì. Oggi invece andiamo a fare una cosa diversa ragazzi. Andiamo a ragionare su tutte quelle che sono state queste news bombardate nella giornata di ieri per innescare un po' una spirale negativa. Si parte dalle news anche del mercato old ragazzi. Le news relative alla Silicon Valley Bank che in pratica sta per chiudere i battenti. Anche ancora non si capisce bene ma in sostanza è un crash molto rilevante di una banca grande degli Stati Uniti. Quindi non è una cosa da niente. L'impatto ci sarà probabilmente anche nell'old economy. Bisogna capire un po' le reti di connessione anche di queste banche. Però quello riguarda esclusivamente diciamo un po' il mondo dell'old economy. Sicuramente può avere un impatto anche sulle cripto. Ma ci sono state delle news che in proprio questa giornata, in questa settimana hanno impattato invece in maniera notevole proprio sul mercato di Bitcoin, sul mercato delle criptovalute. In primis le questioni legate a Biden che da un anno continua fondamentalmente ad avere nel suo mirino tutto quello che riguarda il mondo delle cripto insieme alla SEC. Insieme alla regolamentazione americana che in generale gli Stati Uniti hanno preso di mira a questo settore. Cercando appunto di ricondurlo a quello che loro vogliono da tanti punti di vista. Vedremo in questo video anche la questione legata alla Silk Road di Bitcoin trasferiti ragazzi. Proprio nella giornata di qualche giorno fa, di ieri insomma, che sono stati trasferiti su Coinbase è immediatamente iniziata poi una fase ribassista. Molti dicono che è connessa la questione e potrebbe essere in effetti così. Quindi vendite dei Bitcoin sequestrati da US government e poi venduti su Coinbase che hanno innescato questa spirale di bassista. C'è il caso Silvergate ragazzi che si deve fermare fondamentalmente per una serie di controlli della banca stessa ad ammetterlo. che arrivano in maniera insistente e che non rendono possibile proprio l'attività stessa di Silvergate. Quindi a quel punto si ferma la banca principale come layer 2, diciamo così, delle banche cioè come prestatore agli exchange eccetera. Vedremo infatti che un po' c'è da ragionare sulla questione legata alla liquidità proprio nel settore delle cripto che viene fortemente aggredita dalla messa in off, quindi offline del network di Silvergate che era quello che prestava liquidità agli altri exchange. Insomma una serie di notizie terribili da un certo punto di vista. Andiamo ad analizzare un po' una alla volta, c'è stata anche la questione della SEC e di Paolo che dice che il rialzo dei tassi deve essere più pronunciato. Quindi a questo punto la domanda dovrebbe essere ma allora hai sbagliato perché un mese fa avevi detto che andava bene così. Quindi vediamo un po' se certe volte magari molti si pongono anche il dubbio che queste informazioni delle banche centrali sono fatte un po' con il doppio gioco. In realtà non è del tutto così e dovremmo ragionare su un bias molto semplice, diciamo su un modo di ragionare, un mindset molto semplice, che quando succedono queste cose la maggior parte delle volte è proprio per un errore umano più che per complottismi vari eccetera. Partiamo dalla questione di Biden. Ancora un attacco al mondo delle cripto e soprattutto al proof of work di Bitcoin. Il 30% di tasse sull'utilizzo dell'elettricità per il mining delle criptovalute da inserire dal 2024 a in maniera graduale per ogni anno quindi di attività dal 2024. In poi il 10% di tasse sul costo dell'energia. Vi dirò anche la mia da questo punto di vista. Secondo me dobbiamo ragionare a doppio filo da questo punto di vista ragazzi perché da una parte c'è sicuramente il concetto della tassazione, ma la tassazione aumenta in sostanza i costi del mining e questo teoricamente poi dal punto di vista dell'algoritmo di YouTube con la difficulty si dovrebbe livellare in sostanza e quindi essere assorbito dalla struttura stessa di Bitcoin e in teoria aumentando i costi del mining dovrebbe incrementare anche teoricamente il prezzo dei mercati. Allora c'è comunque una doppia modo di guardare questo bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto però c'è un'altra considerazione da fare ragazzi. È palese che continua diciamo un attacco da questo punto di vista quindi il 30% tra le altre cose viene anche indicato che riguarda sia le fonti on grid che quelle off grid cioè le fonti in pratica di energia che vengono auto che non sono collegate alla rete come se io dico faccio metto due paleoliche nel mio territorio e produco energia da quelle paleoliche e attacco una mining farm e quindi sono off grid non sono collegato alla rete elettrica mi tasti anche quelle cioè che sono energie che io sto producendo da solo insomma ragazzi vabbè anche questo no perché la scusa diciamo il motivo della tassazione di questo 30% di energia è derivato dal fatto che l'amministrazione dice aumentano i costi anche per gli utenti normali e quindi è giusto tassarle insomma questa bisogna vedere poi se verrà applicato o meno ma questa proposta insomma va ben studiata ragazzi e di nuovo punto insomma si vede un po il concetto del della aggressione un po no sense no al settore delle cripto a prescindere diciamo così non legato un po a delle questioni effettive quindi con dei calcoli reali da certi punti di vista c'è anche da dire che il proof of work si può assolutamente sostituire con le fonti di energia rinnovabili ma se il problema è irrilevante perché qui non viene citata la rinnovabilità dell'energia o meno viene citato proprio il consumo a prescindere anche di energie autoprodotte quindi insomma capite bene qual è il concetto è una no punto cioè lo voglio tassare eccetera poi magari non verrà applicato però insomma questa cosa qui va compresa seconda news invece di nuovo Biden con il pacchetto eccetera la questione legata alla wash sale ragazzi ora vi spiego che cos'è eccolo qui allora la questione legata al wash sale in pratica si proibisce alle criptovalute di portare in detrazione delle minusvalenze dovute alla vendita di un asset che poi viene ricomprato in sostanza era già vietato per le azioni e le obbligazioni su questo si può anche dire che effettivamente l'amministrazione Biden non fa una discriminazione perché in realtà era già presente sulle azioni e le obbligazioni quindi la vendita di un asset in minusvalenza per accumulare minusvalenze e toglierle dalle tasse in pratica e il riacquisto simultaneo dello stesso asset deve essere eliminato e insomma anche le cripto dovranno essere equiparate alle azioni e alle obbligazioni quindi il cosiddetto la cosiddetta questione della wash sale viene eliminato insomma non si potrà fare più anche questo potrebbe aver spinto moltissimi a liquidare le proprie posizioni sulle cripto in questa fase per poi ricomprarle quindi agire appunto da wash sale prima che magari venga vietato anche questo è un altro punto interrogativo ragazzi che bisogna un pochettino ragionare e quindi seconda notizia terza notizia terzo fattore rilevante lo spostamento di quelli che sono i bitcoin del caso silk road e quindi sequestrati a laker su coinbase premium e da lì ragazzi qui insomma il punto dove sono stati spostati una cifra come 40.000 btc e 9.000 sono stati inviati come si vede qui sono stati sequestrati 40.000 9.000 inviati a coinbase e da lì insomma più o meno guardate un po' quello che avviene questo è un indicatore di coinbase premium che indica al di sopra della linea indica che c'è una attività di acquisto di bitcoin al di sotto un'attività di vendita che aumenta insomma sembra proprio che ci sia stato una una influenza di questi 9.000 bitcoin ancora una volta tutto nello stesso giorno tutto insieme tutta una serie di notizie che in effetti devono essere poi assorbite da un mercato già di suo un po' leggerino un po' sottile bitcoin magari è un mercato un po' più è un assetto un po' più liquido ma le altre cripto sappiamo non sono così allora anche quest'altra notizia ha sicuramente impattato sulla valorizzazione di bitcoin sia che siano stati effettivamente venduti questi 9.000 btc a questo punto speriamo che siano stati venduti sia che semplicemente siano stati messi lì e quindi si è creato il panic selling quell'effetto riflessivo da parte del mercato che va a ragionare e dire se il governo degli Stati Uniti che ha sequestrato questi bitcoin li vende e li butta giù qui crasha tutto quindi magari io esco prima della questione poi effetto catena come sapete si va a innescare anche per la breakout dei livelli di supporto che avevamo indicato 21.200-21.000 in generale e quindi down proprio generalizzato arriviamo però poi all'ultima notizia ragazzi quella su cui ci focalizzeremo un po' di più cioè il caso Silvergate ragazzi il caso Silvergate è questo qui cioè la banca che era una banca normale insomma che era però pro cripto e quindi dava la possibilità in pratica a tutti quelli che erano gli investitori istituzionali cioè gli operatori istituzionali più che investitori del settore delle cripto di poter trovare liquidità ragazzi ok di poter utilizzare la loro banca per creare delle strategie di trading bilanciare delle loro posizioni all'interno per esempio immaginate Binance o Kraken che magari necessitava in un determinato momento di avere una liquidità in prestito H24 7 giorni su 7 la disponibilità attraverso Silvergate di un vaccino di liquidità molto grosso che rendeva possibile magari alcune attività proprio degli exchange e di queste istituzioni è come non diciamo un prestatore di ultima istanza se così ve lo volessimo ragionare in termini dei mercati classici come la Fed in generale ma comunque una banca che rendeva dava spazio a tutte le istituzioni del mondo cripto gli exchange in generale di poter avere un bacino di liquidità da utilizzare questa è una cosa abbastanza rilevante ragazzi nel suo annuncio dell'8 marzo Silvergate comunica che si ferma dalle loro attività quindi proprio mettero in liquidazione tutto quanto per preservare quelli che sono in sostanza gli asset di tutti i loro clienti quindi non è un fallimento perché hanno imbrogliato roba del genere semplicemente che hanno subito alcune cose relative alla questione di Alamida ed FTX e questo lo si sapeva già da novembre ragazzi che Silvergate aveva subito un po' il disastro creato da FTX però in generale poi loro hanno anche detto che in luce guardate qui la notizia evidente delle recenti questioni legate alla regolamentazione dell'industria loro decidono di chiudere i battenti sospendere le loro attività per ripagare totalmente i depositi dei loro clienti quindi non avere in sostanza notizie ma fanno riferimento alla questione legata alla regolamentazione perché la sopraggiunta regolamentazione non gli consente probabilmente di andare avanti con la loro attività in maniera naturale proprio nel prossimo anno anche nell'articolo di CoinDesk si evince la stessa identica questione ma si pone l'accento anche su un'altra questione cioè la chiusura del SEND cioè la loro piattaforma ragazzi di liquidità chiamiamola così quindi il Silvergate Network che è il Silvergate Exchange Network questa insomma dava la possibilità a queste istituzioni appunto ragazzi di poter andare a creare una serie di attività quindi una serie di strategie quindi il SEND Network è utilizzato vedete da una serie di investitori istituzionali per dargli la possibilità di sviluppare alcune strategie tra gli exchange globali in generale insomma questo è il concetto e si collegavano insomma attraverso l'API ad una fonte di liquidità un po' quello che vi ho accennato ora ragazzi questo Silvergate Exchange Network è un po' una chiave dei mercati perché nel momento in cui io vado a toccare il vaccino di liquidità è un po' come una riserva idrica immaginate era così di un organismo vivente se io vado a toccare la riserva idrica e quindi l'acqua di quell'organismo cosa faccio ragazzi in pratica induco quella struttura a collassare su se stessa perché alcuni tipi di operatività non si potranno più effettuare in quanto questo bacino di liquidità viene a mancare e quindi la possibilità che per investitori istituzionali si vada insomma ad appoggiarsi su un'altra struttura bancaria in questo caso tutta regolamentata e quant'altro è una banca comunque mi pare 25 anni di attività insomma questa banca addirittura esisteva ai tempi di Lehman Brothers quindi nel momento in cui io vado a fare una cosa del genere in sostanza creo un buco netto dove gli investitori istituzionali stessi devono riorganizzarsi totalmente e a quel punto dovranno un po' decidere come andare a sopperire a questa mancanza tutte quelle strategie che magari andavano a creare per evitare gli arbitraggi per sopperire a mancanze di liquidità momentanee attraverso la messa esempio di bitcoin in collaterale per farsi dare dei prestiti in dollari e poi magari ripagare eventuali clienti quando richiedevano i withdrawal eccetera tutte queste strategie non è che non si possono far più ma hanno un operatore istituzionale in me e questo ragazzi vi fa comprendere qual è il reale problema di fondo di insomma di questa situazione cioè la aggressione se così volessimo dire alla fonte primaria di liquidità a una delle fonti primarie di liquidità che collegavano il mondo cripto anche al mondo old economy questi sono il network di silvergate sono i volumi ragazzi per ogni quarter che venivano scambiati attraverso questo network fatevi un po' voi e le vostre considerazioni qui siamo anche in fase in piena pull erano 240 billion qui siamo comunque a 190 e anche negli ultimi quarter quello che hanno visto anche il disastro insomma di FTX comunque siamo sui 100 billion di movimentazione attraverso questo tipo di rete quindi questa rete non esiste più un altro attacco al mondo delle criptovalute un'altra volontà di togliere proprio un nesso di connessione tranciare la rete elettrica tranciare la fonte di stabilità di questo mondo questi sono degli interrogativi non abbiamo nessuna informazione a riguardo però un po' il dubbio ci viene no ragazzi che da quando abbiamo fatto se vi ricordate un annetto fa un video relativo anche a questa cosa un po' tutti questi pezzi del puzzle questo effetto domino si sta andando a creare è un po' lo zampino della regolamentazione oppure una semplice mala gestione magari di queste società chi rimpiazzerà questa piscina questa pool di liquidità per gli istituzionali che sarà assente da Silvergate e nel frattempo cosa può succedere perché se noi non abbiamo una fonte di liquidità ragazzi non abbiamo questo cuscinetto all'interno di un mercato può divenire estremamente più volatile molto più pericoloso molto più rischioso e questo ancora di più potrebbe innescare diciamo la fuoriuscita dei retail o di chi magari non riesce a stare in un mercato del genere proprio perché magari diventerebbe più volatile più difficile da tradare e aumenterebbero le difficoltà anche per gli exchange stessi allora aspettiamo un po' di tempo prima di ragionare su determinate cose ma questi sono i fatti questo è quello di cui abbiamo parlato cosa ne pensate voi attacco sì attacco no al settore delle cripto ma soprattutto c'è solo una volontà di regolamentazione o una volontà di annientamento vi lascio con questo dubbio ne parliamo poi nelle prossime settimane vediamo un po' cosa ne pensate voi nei commenti ciao a tutti